Allora, siamo qui con Vincenzo De Palo, che per chi ha iniziato a seguirci soltanto adesso è agente immobiliare e con il quale oggi ci, come dire, immergeremo a 360 gradi in questa realtà. Allora, direi Vincenzo di iniziare anche presentandoti, perché io so che tu hai, come dire, anche esperienza alle spalle, quindi è giusto che tu ti presenti ai nostri amici. Grazie. Allora, io svolgo attività di agente immobiliare. Per fare questa attività ho superato degli esami, due prove scritte e un'orale, presso la Camera di Commercio di Competenza, la mia è quella di Frosinone, poi c'è stata tanta gavetta, circa 12 anni di intensa attività, è un'attività immobiliare che si deve fare aprendo una partita IVA, c'è tutto un discursus imprenditoriale. Ho iniziato con le agenzie del territorio, quelle sotto casa, come si suol dire in gergo più semplice, e poi ho iniziato un percorso un po' più intenso, perché l'esperienza, il guadagno, il fatturato mi ha concesso di potermi presentare a delle società un po' più grandi. Oggi sto con la società americana Coldwell Banker, che è una società americana nata a San Francisco, ha un'esperienza addirittura dal 1906, quindi è importante, è un colosso del settore immobiliare, ha sede in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per l'Europa, però poi è anche una grande responsabilità, perché solo in Italia fatturano miliardi di euro e quindi non si può perdere tempo, bisogna vincere. Allora, questa domanda ovviamente noi la ponevamo anche perché dobbiamo sfatare un po' di miti, no? Allora, ci sono delle persone che all'interno di questo settore pensano di poterci immergere anche senza competenze, invece anche avendo descritto quella che è stata la tua esperienza e quindi il tuo percorso, diamo anche l'opportunità a chi ci segue di far capire che non è così assolutamente, ma bisogna studiare, bisogna professionalizzarsi per arrivare anche a alti livelli. Beh, certo, perché è importantissimo studiare e aggiornarsi. Vendere casa non può voler dire, è impossibile, mettendo soltanto il cartello vendesi. Non è così. Il cliente ha problemi tecnici, ha problemi, in un certo senso io dico che l'agente immobiliare deve essere un mediatore e non può fare per legge altre professioni, però a volte ci sentiamo un po' come gli avvocati, perché quando ci sono problemi di eredità, di successioni, donazioni, dobbiamo avere un'infarinatura per fare poi la differenza, cercando di far capire ai clienti che poi ci si deve rivolgere all'esperto giuridico, in questo caso l'avvocato di turno, perché noi non ci possiamo sostituire. Come gli avvocati e i geometri non si possono sostituire a noi. Ci vuole tanta preparazione, perché poi oggi siamo tanti, quindi è dura, però se si ha costanza, il desiderio imprenditoriale e anche un pizzico di fortuna è un mestiere che può far guadagnare più di quanto guadagni un impiegato comunale in un anno, però prima di raggiungere questi risultati. Un pizzico di fortuna, dicevi, c'è sempre bisogno di un po' di fortuna, però la preparazione e l'impegno occupano gran parte del percorso. Volevo anche spiegare ai nostri amici, assieme al tuo aiuto, come si è evoluto anche oggi il mercato immobiliare, perché tu mi dicevi che oggi non è semplice, ci sono tante persone, c'è anche tanta competizione, ma a livello di mercato immobiliare cosa è accaduto? Nel mercato immobiliare è accaduto che chiaramente è un settore che reagisce a seconda della situazione economica ed internazionale più generale ed anche internazionale, quindi se l'economia non funziona anche il settore immobiliare non funziona. Un territorio per far funzionare il settore immobiliare e dare valore agli immobili deve avere i servizi, quindi la prima cosa che consiglio ai cittadini è quello di battersi per avere dei servizi che funzionano, altrimenti il territorio rimane indietro. Tra Roma e la provincia di Roma c'è già una distanza in termini di qualità, in tal senso, tra la provincia di Roma e, ahimè, la provincia di Frosinone c'è una distanza ancora più importante, però speriamo di creare un collante, anche con il nostro impegno professionale, di creare un collante positivo che possa aiutare il territorio e poi capire che ci sono tante tante incompetenze. Io vorrei lanciare questo messaggio che è importante. Al prezzo giusto si vende sempre, al prezzo giusto si vende sempre, con una strategia giusta. Io, se i clienti non mi seguono, io non prendo l'incarico, perché poi facendo parte di una grande società che è la Coldwell Banker, non è che mi devo mettere la stellina come tendenzialmente tutti quanti abbiamo fatto all'inizio della nostra professione, perché fa parte un po' del percorso, no? No, è chiaro. Dire alla società ho preso l'incarico, ce l'ho fatta, però oggi ho... Dopo un po' di esperienza, insomma, non è quello, no? Non è prendere l'incarico che fa la differenza. Però strategia giusta si va a dama, sicuro. Ottimo. Io volevo anche, visto che hai approfittato anche tu di questo spazio per dover mandare un messaggio molto importante ai nostri amici, anche sulla professionalità, mi viene in mente anche che nella maggior parte dei casi ci sono persone che decidono di in qualche modo anche lavorare in autonomia, cioè perlomeno ecco in questo settore magari fare delle scelte in maniera autonoma senza consultare chi di competenza. Cosa succede poi? Che magari si ritrovano invece di risparmiare a spendere il doppio perché poi devono riparare ai danni che il non professionista ha fatto, giusto? Beh, certo. Allora, io mi è capitato durante il mio percorso, la mia carriera, di sentirmi dire De Palo faccio da solo. Ah no? Oppure chi mi dà Del Tu, Vincenzo faccio da solo. Che può anche essere, perché il mercato è fatto di tutto. Una cosa è certa, primo, il professionista non può spargere di grano turco un immobile sperando che passi il pollo di turno, perché non sarebbe una vendita seria e non la possiamo proporre ai clienti. Primo passo. Secondo punto, agire da soli. Ora, io lavoro per la Goldwell Banker, che è una società di livello internazionale. Come ce ne sono altre, perché ci sono dei colossi nel settore immobiliare. Io faccio parte di una società tra queste. Allora, secondo voi, lo dico al pubblico, una società che apre sedi in tutto il mondo, se fosse così facile raggiungere gli acquirenti da soli, vi pare che una società possa aprire sedi in tutto il mondo? Non avrebbe senso? Certo. Allora, se spende tutti questi investimenti con sedi dagli Stati Uniti alla Cina passando per l'Europa, evidentemente c'è un perché. L'acquirente non si trova per strada. E poi bisogna salvaguardare la professionalità. Io non posso proporre una vendita azzardata perché non sarei serio. Noi siamo una sorta di avvocati del settore immobiliare, almeno i professionisti veri. Personalmente io non inseguo gli incarichi. Io creo entusiasmo con una strategia messa per iscritto, nel rispetto del venditore e nel rispetto dell'acquirente. Il venditore non può vendere un immobile che vale 300.000 euro, non lo può vendere a 400.000. Come l'acquirente non può permettersi con me di pensare di avvicinarsi ai miei clienti facendo l'affare del secolo, perché ovviamente non glielo permetto. Io volevo farti una domanda che forse è un po' difficile, a cui è difficile rispondere, quindi puoi dirmi anche no, ok? Prego. Secondo te oggi come si può soddisfare un cliente? Un cliente si può soddisfare in un modo. Innanzitutto io al cliente dico sempre di raccontarmi la sua storia. Molti si aspettano da un agente immobiliare, da un professionista, una valutazione. Una pappa pronta, tutto che sta lì, no? Bravissima la pappa pronta. Non è il mio modo di lavorare e non è il modo di lavorare della Goldwell Banker. Il mio modo di lavorare per essere, diciamo, fiero di appartenere ad una società importante e dimostrare alla società risultati è che il cliente mi deve innanzitutto raccontare la sua storia. Se il cliente non mi racconta la sua storia è un pessimo cliente e io non inseguo i pessimi clienti. Primo passo. Poi cercare di costruire una strategia. Io sono molto meticoloso nei particolari. Se un immobile, come ad esempio questo bellissimo studio, è stato costruito con dei materiali edili interessanti, per me vanno descritti perché è una cosa importante. Vale la pena farlo, certo. Vale la pena farlo perché poi noi abbiamo clienti italiani, stranieri e il cliente straniero vuole il tappeto rosso, ma non perché sia un cliente antipatico, ma perché spende tanti soldi e non li spende a caso. Stiamo parlando dell'evoluzione del mercato e non solo perché tra pochissimo faremo anche una prospettiva futura. Prima però mi chiedono i nostri amici che ci hanno scritto appunto al 320-2393833. Cosa deve fare attenzione un agente immobiliare e a cosa deve fare attenzione invece un venditore per far sì che tutto vada nel miglior modo possibile? Certo, allora un agente immobiliare deve innanzitutto controllare, verificare la regolarità della documentazione, ma spesso e volentieri l'ottimo professionista deve mettere mano a quelli che sono i problemi e risolverli perché non ci si può aspettare che un immobile sia perfetto. No, è chiaro. Cioè è chiaro che ci sono abusi di lizi che si possono risolvere e noi abbiamo i nostri tecnici interni e collaboratori esterni in tutto il mondo perché la Goldwell Banker è internazionale, anche se lavoriamo io particolarmente su Roma per risolvere le questioni perché poi sono i tecnici che devono mettere mano. Il controllo della documentazione è soprattutto quando si arrivano a delle situazioni limite per cui il venditore non vuol spendere soldi, l'acquirente non vuol spendere soldi per risolvere determinati problemi bisogna riuscire a trovare un equilibrio o nel prezzo oppure durante la trattativa. Io ho vissuto trattativi estenuanti di venditori e acquirenti che sono stati anche ad aprire trattativi di sei mesi. Però con calma il lavoro è anche psicologico dell'agente immobiliare. Di fatti io non prendo incarichi se non entro perfettamente nella mentalità del cliente venditore perché voglio vendere l'immobile come se fosse mio per presentarmi al meglio con gli acquirenti. Il venditore deve seguire il vero professionista, dargli retta, fare un prezzo che gli consenta di non svendere l'immobile però deve trovare un equilibrio, tenere la casa in ordine, mantenerla, fare qualche lavoretto di ripittura potrebbe essere molto utile. Anche accattivante, no? Anche accattivante, certo. Quindi tutte quelle condizioni che rendano speciale perché l'acquirente quando va a comprare l'acquirente serio, state pur certi che ha già individuato l'immobile che gli interessa. Sta aspettando di capire se si dovesse abbassare il prezzo, cosa sta accadendo, prende informazioni sul proprietario. Chi compra e spende, cari amici, non vi pensate che lo fa a caso perché una mattina si sveglia e dice ma ho 300 mila euro da spendere. Non è così. Dico magari succedesse una cosa del genere ma purtroppo nella maggior parte dei casi non accade. Io devo evitare i turisti immobiliari, non perché mi sia antipatica la categoria però non voglio perdere tempo. Un immobile solitamente se passano 3-4 mesi soprattutto su Roma vuol dire che cominciamo a stare in difficoltà. Io non abbasso mai il prezzo degli immobili. Questo è un altro consiglio perché se io vendo un immobile a 300 mila euro cifra di fantasia e poi abbasso il prezzo e lo porto a 2,90, 2,80, 2,70, 2,60, è chiaro che viene l'acquirente e un immobile che poteva essere venduto a 300 mila perché vale 300 mila e l'acquirente non te ne offre più 2,90, 2,80 ma te ne offre 2,40. Ti offrirà sempre meno rispetto al prezzo. È chiaro, è un po' la strategia, come dire, ci provano, ci provano. Mai, mai deprezzare il proprio immobile però scegliere il prezzo giusto è fondamentale. Poi un network internazionale come quello di cui faccio parte chiaramente fa la differenza perché se solo in Italia fatturiamo 40 miliardi di euro all'anno qualche acquirente ce l'abbiamo. Il motivo ci sarà, certo. Allora concludiamo invece con una domanda che riguarda il mercato immobiliare del futuro. Cosa succederà secondo te? Previsioni? Previsioni? Allora, questo è un domandone. Innanzitutto avevo già accennato che il settore immobiliare è in forte relazione con la situazione internazionale e quindi l'economia, la politica, la finanza sono molto legata al settore immobiliare. Cosa accadrà? Ma bisogna capire le città dove vogliono andare perché le decisioni che prendono le amministrazioni sono fondamentali. Perché vogliamo andare verso la green economy? Ma la green economy non è soltanto il biodigestore, la green economy sono anche i pannelli fotovoltaici. Però il fotovoltaico va messo non lì dove dà fastidio al povero agricoltore che già è vessato di tasse e contributi. Certo. Il fotovoltaico va messo nei terreni non utilizzati. Che tipo di città vogliamo? Se un territorio mantiene buoni servizi avrà un buon mercato. Se cede qualità di servizi starà in grossa difficoltà. Per quest'anno il mercato sicuramente è stabile. Però sappiate, tranquillizzo i telespettatori, che ad un buon prezzo e al giusto prezzo si vende sempre. Bene. Questo è un ottimo consiglio secondo me anche per i giovani che si vogliono appunto cimentare negli studi e nel percorso che poi porterà a questa professione. Perché abbiamo detto sin dall'inizio che è una professione davvero molto lunga, un percorso davvero molto lungo e quindi non si smette nemmeno mai di imparare. Non è un mestiere per tutti sicuramente. Può dare grandi soddisfazioni perché si guadagna aggiungo solo questo, si guadagna su provvigione, sembra un rischio. Ma se si è davvero imprenditori si può guadagnare più di quanto guadagni un impiegato comunale durante tutto il suo percorso di anno di lavoro. Però bisogna essere imprenditori. Se lo si fa tanto per... Assolutamente no, non ne vale la pena.